Arturo Rencicra si conferma campione italiano dei mangiatori di peperoncino alla 29esima edizione del Festival di Diamante. In gara i vincitori delle eliminatorie che si sono svolte in tutta Italia durante l'estate. Non c'è stata storia tra i finalisti. Sul palco a darsi battaglia, veri e propri, stomaci d'acciaio. Riconfermarsi è sempre difficile, no? Quest'anno purtroppo non ho messo record, ma i peperoncini erano molto, molto, molto irritanti e molto forti. Però è stato sempre entusiasmante partecipare e riconfermarmi per il quinto anno consecutivo a Diamante. Sono felicissimo. Beh, pensavo, ho assaggiato i peperoncini e sapevo che erano molto irritanti. Però quest'anno il diavolicchio è stato veramente, veramente molto piccante. Anche se toglierò molto bene la capsicina perché ti può nauseare tutto là. Il Festival è sempre entusiasmante, è sempre bello. Certo, quest'anno è stato fatto nel mese d'ottobre, ma Diamante mi emoziona sempre. Un'edizione interessante che dal 6 al 10 ottobre nella città dei Murale si ha chiamato a raccolta tante persone, in occasione di una serie di eventi di vario genere. È una iniziativa che valorizza la nostra tradizione, ha detto il patrone Enzo Monaco. In Calabria, mangiare peperoncino è segnale di forza e di visibilità, indispensabili per un vero uomo. Fino a qualche anno fa, ricorda Enzo Monaco, nelle famiglie si organizzavano veri e propri liti di iniziazione per gli adolescenti. Calato il sipario sulla Kermess, ora ci si metterà al lavoro per organizzare la prossima edizione dell'evento. Nel 2022 il Festival del Peperoncino spegnerà la trentesima candelina.